Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Trasporti del Senato della Repubblica, il senatore Coltorti del Movimento 5 Stelle, per parlare del decreto Alitalia, su cui oggi ci sono le audizioni. Allora, il provvedimento è passato alla Camera dei Deputati, ci sono delle polemiche sulle prospettive di vita della nostra azienda di volo. Allora, che cosa sta succedendo? Volevo sapere se è pessimista per quanto riguarda il futuro di Alitalia, considerando che progressivamente i principali soci che si erano fatti avanti, Lufthansa, Delta e anche Atlantia, in qualche modo hanno fatto un passo di lato. Allora, io sono molto positivo perché a quel ministero c'è il nostro Stefano Patuanelli, che è una gran persona, è un lavoratore in defesa, è anche una persona molto equilibrata e che tiene al futuro dell'azienda, sta impegnandosi su molte crisi in atto nel nostro Paese, che ci sono giunte da una cattiva gestione del passato. Io ricordo a tutti che l'Alitalia è una delle poche compagnie di bandiera che non ha guadagnato in questi anni, perché le altre compagnie di bandiera hanno guadagnato dal 6 all'8% annuo sui voli aerei, soprattutto puntando sul lungo percorso. L'Alitalia in questi anni è stata dapprima lasciata tra virgolette ai capitani coraggiosi, a quelli che hanno fatto degli investimenti per depotenziare la compagnia. Poi è stata commissionata, commissariata, ma devo dire che i commissari sono stati, non è che hanno fatto un grande lavoro. Ora speriamo che con questa nuova ripartenza si arrivi a rilanciare questa compagnia di cui noi abbiamo estremamente bisogno, perché è inutile che le compagnie, anche la Lufthansa, portino clienti in Italia passando per Francoforte o altri aeroporti tedeschi che in qualche modo intercettano parte del traffico. Noi abbiamo bisogno, soprattutto per quello che riguarda uno dei più grandi settori, che è quello del turismo, di portare i nostri, tra virgolette, clienti direttamente in Italia. Altrimenti noi diamo parte della nostra potenziale clientela agli altri e questa è una follia. Senta, si pone oggi il problema degli esuberi o ritiene che in qualche modo lo Stato possa farsi carico di questi con i privati che si stanno sfilando e in che misura lo Stato potrà intervenire? Ritiene che questo sia l'ultimo decreto ponte? Non lo so se questo è l'ultimo decreto ponte e non so neanche la questione degli esuberi se verrà posta sul tavolo delle trattative subito, perché bisogna aspettare a vedere quello che sono le prospettive a cui sta lavorando il commissario attuale. Quindi io spero che non ci sia questa questione, io spero che le persone che lavorano siano riassorbite. Allora in prospettiva se l'azienda viene rilanciata queste persone vengono riassorbite. E tutto sta nel lavoro che ora deve svolgere il commissario. Pensa che le polemiche sul decreto 1000 prorogo e sull'articolo 35 che riguarda la revoca delle concessioni autostradali o comunque il passaggio ad ANAS di alcune responsabilità possa in qualche modo rendere più difficile il dibattito sul futuro dell'Italia con l'ipotesi di Atlantia? Ritiene che questo abbia un po' complicato? Io credo che questi due trattativi devono avere percorsi separati, perché sulle concessioni secondo me sono stati fatti degli errori madurnali in passato, cedendo degli asset importanti e anche fruttuosi per lo Stato a dei privati. Per giunta questi privati sappiamo bene che non hanno fatto manutenzione e non hanno ottemperato a quello che erano i loro compiti. Secondo me l'Alitalia è un percorso a sé e quindi non dovrebbe interferire. Poi dopo se interferisce non lo so. Io la ringrazio molto per la sua disponibilità, ringrazio il Presidente della Commissione Trasporti del Senato, il senatore Coltorti del Movimento 5 Stelle.